La messa per le celebrazioni in onore di San Giustino, la messa che è stata trasmessa in diretta su Reteotto, sulla pagina Facebook di Reteotto e anche in streaming su reteotto.it. Oggi infatti San Giustino, santo patrono di Chieti, la messa è stata celebrata nella cattedrale della città a partire dalle ore 11.30. La Santa Messa è stata celebrata dal Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Papa Francesco, insieme all'Arcivescovo della Diocesi di Chieti Vasto, Monsignor Bruno Forte. Nel pomeriggio, sempre in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giustino, il sindaco Diego Pietro Ferrara sarà al Teatro Marrucino per la consegna dei riconoscimenti ai volontari impegnati a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19. E alle 17.30, nell'atrio del Palazzo della provincia di Chieti, ci sarà anche l'inaugurazione della mostra fotografica sulla storia di Chieti, raccontata dagli scatti degli studenti delle classi car quarte e quinte, delle elementari e delle scuole medie del capoluogo teatino.